Qual è il salario minimo legale? Questo è il tema del convegno che si tiene questa mattina a Pescara, all'auditorium Petruzzi. Segretario, un dibattito molto importante su un tema molto caldo oggi. Sì, un dibattito aperto. Sappiamo che la compagine di governo, tra i 25 punti programmatici della propria azione di governo, c'è la legge sul salario minimo legale. Noi ci auguriamo che ci sia un confronto aperto con le parti sindacali, con le parti datoriali, con chi tutti i giorni lavora sul campo rispetto a un tema così delicato e così prezioso. Oggi abbiamo voluto costruire questo seminario ascoltando anche voci non sindacali, è presente il professor Pascucci, ordinario di diritto e lavoro dell'Università di Urbino, proprio per un confronto sereno rispetto da prospettive diverse, quelle dell'Università e quelle di chi fa il sindacalista sul campo, proprio per cercare di capire come meglio poter costruire sul salario minimo una proposta che sia concreta e che possa aiutare tutte le lavoratrici, i lavoratori, soprattutto quelli più deboli nel mondo del lavoro. Restringendo il discorso all'Abruzzo, quante potrebbero essere le persone interessate dal salario minimo? Tutti quei lavoratori, l'Abruzzo è speculare all'Italia, tutti quei lavoratori che ovviamente non hanno nel proprio posto di lavoro, per la tipologia di lavoro che fanno, per cui i precari somministrati, i lavoratori a intermittenza, oggi è all'ordine del giorno i rider, questi hanno un problema perché sono lavoratori dentro la galossia del mondo del lavoro dipendente, sono i lavoratori più deboli, per cui lì ovviamente il tema del salario è un tema molto più sentito, molto più urgente da risolvere rispetto a quello che hanno ovviamente i lavoratori che sono in aziende dove c'è l'organizzazione sindacale organizzata insieme ai lavoratori, dove c'è un contratto collettivo nazionale di lavoro che è presente, che quindi nella parte salariale è normativa, da risposte ai lavoratori, questo noi dobbiamo cercare di portare avanti anche nel rapporto oggi con il governo, costruire, noi pensiamo soprattutto come Will, che costruire una proposta di legge sul salario minimo non può prescindere da un allargamento della contrattazione collettiva nazionale di lavoro e quello è il centro della discussione che deve portare dei risultati fattibili per i lavoratori.